ecco lo stivalo mai ragazzi riecosi quanti carichi pimpanti a zin nel canale un altro video insieme buona serata a tutti ovviamente in questo video serale vi propongo anche un po un riassunto di quello che sta accadendo alla continassa in queste ore in cui l'avimento si sta allenando ovviamente si è ritornati all'idea del 352 con alcuni assenti tra cui alexandro e di questo sono molto contento perché probabilmente ci saranno possibilità sia per gatti che per rugani rugani centrale di sicura affidabilità che comunque non ha mai fatto rimpiangere nessun titolare quindi merita secondo me è un gettone e ovviamente dobbiamo andare ancora a vedere cosa succederà in attacco perché il ballottaggio critico è tra chiesa e litz perché comunque sappiamo che vlaovic giocherà e ovviamente si continua ancora una volta a cercare di capire se sarà un allegrino allegri out ma come vi ho detto nei video di oggi mattina pomeriggio la certezza quasi assoluta che leghi non finirà l'ultimo anno ovviamente gli ultimi quattro risultati negativi hanno comunque messo nelle sabbie mobile l'allenatore e ovviamente ci sarà un rush finale da qui fino a maggio per capire se lui meriterà o no la panchina vedremo insieme anche il calendario che avrà davanti la Juventus che è molto ma molto ostico ci sono solo alcune partite sulla carta un po più semplici ma la maggior parte veramente complicatissime quindi tirare via punti già da Frosinone è fondamentale parto con i saluti ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi benvenuti in community lo stilello magnum accoglie con un grande abbraccio forte forte un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione ardore tra questi tutti i meravigliosi strabilianti abbonati allora come ho detto alexandro non ci sarà probabilmente nemmeno del ciglio a meno che come abbiamo detto non recuperi proprio prima della rifinitura e allegri non se la senta di convocarlo e quindi insomma diciamo che le scelte sono anche abbastanza obbligate perché come sapete danilo non è a disposizione quindi in difesa secondo me c'è una scelta obbligatoria cioè quella di mettere di nuovo bremer che ritorna alla squalifica rugani e gatti che secondo me in questo momento il trio più affidabile con cesni a coordinare la difesa sperando che non faccia uscite a vuoto e che non stia troppo alto perché quando è tra i pali fa sempre molto bene ma quando la squadra si sfilaccia i reparti si allungano fa sempre molta fatica a coprire la porta poi al centrocampo direi che non dovrebbero essersi neanche qui siamo grossi dubbi perché comunque cambiaso ormai è diventato un imprescindibile a centrocampo io prevedo comunque che alleghi metta meccanilo che tagliera bio con vedremo secondo me costi c'è ancora una volta e chiesa e valavic favoriti là davanti insomma la squadra in questo momento ha trovato un equilibrio e vedremo se sarà un fatto di testa come molti hanno detto visto che è stata utilizzata anche la psicologa per entrare e scavare la testa dei giocatori per trovare motivazioni che forse erano un po finite dopo la prenda col verona e dopo le debacle con empoli con l'inter e con l'udinese e oppure ecco come ha detto ci sono veramente dei demente dell'anatore perché ci sono molti giornalisti che stanno facendo anche un punto molto più a 360 gradi evitando di andare a toccare la prima stagione e la seconda dove c'è stata la penalizzazione ma focalizzandosi solo sulla terza tenendo conto anche del fatto che non abbiamo le coppie europee ecco in questo momento qua dopo queste quattro partite veramente scialbe e arriva il prosinone che è una delle uniche forse partite facili ed agevoli di questo spezzone di calendario perché avremo un marzo veramente di fuoco prima o poi il 2 aprile di misurarci nella doppia sfida contro la lazio di sarri che comunque vorrà dare tutto quello che ha per portare a casa un trofeo visto che comunque nella finalissima incontrerà una tra atalanta e fiorentina quindi loro hanno un'occasione ghiotta così come l'abbiamo noi di portare a casa un trofeo comunque stagionale e quindi dopo il prosinone arriva il napoli di calzona che comunque ha imposto il pareggio al barcellona non diciamo che è uno squadrone già un affazzonato e con nuove motivazioni però comunque è un napoli calmaradona si una battaglia e quindi sarà dura il 3 marzo spuntarla specialmente se dovessimo venire da una debacca con il prosinone o un pareggio amaro magari 1 0 0 1 1 perché poi in un calderone come quello di napoli con tutto il pubblico che spinge a favore della squadra di casa potrebbe essere veramente una trasferta provante poi in me che non si dica la juve comunque dovrà andare a giocare all'allian stadion contro l'atalanta e la dea sappiamo che gode di un ottimo momento di forma tra l'altro da considerare oltre all'ordineo di marcia della squadra dei gasperini anche il numero di gol che segnano e il fatto che non ha fatto la l'europa league perché erano già al tabellone principale gli ottavi di finale avranno veramente una squadra tosta da affrontare per provare a andare ai quarti però anche loro non è detto che non ce la facciano e quindi insomma quella è un'altra partita difficile perché l'atalanta spesse volte in passato ci ha anche battuto in casa e nelle ultime partite non riusciamo neanche a fare gol all'atalanta è a parte l'anno scorso come si è riuscita a farlo 0 a 2 con illing e vlaovic giocando in avanti in attacco senza i dogmi di allegri schiacciandoci in difesa e ecco e poi c'è il genoa che ci ha imposto il pari amarassi con un gilardino chirurgico nel sistemare la squadra è molto organizzato nei dettagli con un gut munson molto in gamma retegui un giocatore che segna e un centrocampo abbastanza solido oltre che una difesa collaudata che non prende moltissimi gol considerando che agli asti di partenza il genoa doveva salvarsi adesso sono a 30 o 31 punti quindi stanno facendo un campionato molto importante e a occhio perché potrebbero essere delle partite comunque complicate poi finita questa trafina di queste quattro partite decisive poi avremo come abbiamo detto la lazio di sarri e successivamente arriverà il torino verbi della mole il cagliari che è comunque un'altra partita non semplicissima perché il cagliari si deve salvare e i ragneri come sappiamo fa giocare molto bene le squadre e dovremo andare alla serra dell'arena quindi trasferta abbastanza insidiosa e poi ricordiamoci milan e dovremo giocare in casa allo stadium contro una rivale per ovviamente secondo posto ecco poi da lì piano piano si dilenerà un altro tipo di calendario con altri big match tra cui anche lazio e roma in casa loro e ovviamente ripeto ragazzi non è scontato assolutamente quando parliamo adesso che la juventus possa arrivare in maniera agevole nelle prime quattro dipenderà tantissimo dall'approccio mentale già col frosinone e poi cosa faremo in questo calendario di marzo quindi il mese di marzo sarà determinante per capire il finale di stagione se riusciremo a venire c'era anche la coppita e se riusciremo a andare oltre il quarto posto magari ripeto piazzandoci secondo migliorando il quarto posto del primo anno di allegri il terzo posto del secondo anno e appunto piazzandoci soltanto dietro un interrullo compressore peccato aver gestinato l'occasione di lottare per lo scudetto facendo quattro partite ignobili lasciando stare lo scontro diretto ma perdendo almeno sette punti contro le empoli l'udinese e verona quindi è chiaro che abbiamo praticamente buttato via l'unica speranza che avevamo per riportare dopo quattro anni un trofeo importante come lo scudetto a torino ecco quindi ragazzi ripeto stiamo in campana perché questa juventus nelle situazioni in cui abbiamo anche con la granatiera spogliatoio e con un allegri con molte poche motivazioni se non quelle di portarsi a casa i suoi bonus e sperare di prendere più soldi possibili il quarto anno non vedo altro quindi chiedo anche ai giocatori ovviamente nel limite delle loro possibilità di fare il massimo possibile perché ovviamente la vittoria col Frosinone passerà anche dalle loro motivazioni, dal loro entusiasmo dalla loro capacità di interpretare al meglio la partita soprattutto cercando in tutti i modi di non schiacciarsi in difesa nel momento in cui allegri dirà calma calma perché lo so che è un qualcosa che ti entra nel cervello come una sorta di martello pneumatico e non riesci a liberartene un po' come io mi ricordo quando facevo attività agonistica anche a basket il mio allenatore ci diceva nell'intervallo tra il secondo e il terzo quarto mi raccomando non implodiamo puntualmente eravamo a giocarci punto a punto la partita sbroccavamo nel terzo quarto e addirittura a volte perdavamo anche contro squadre più scarse di noi in casa nostra col pubblico a favore quindi capite che a volte ci sono delle parole che ripetute come un mantra possono in qualche modo indurre una psicosi negativa e ripeto ragazzi ma questo lo diciamo già da molto quindi è importante la comunicazione già a partire dalla conferenza stampa di domani vedremo a che ora parlerà Semiliano Allegri nella conferenza stampa e che parole dirà ma sappiamo già e faremo comunque un riepilogo domani sabato di quello che dirà però fondamentalmente non si parla mai di tattica non si parla mai di calcio non si parla mai di caratteristiche dei giocatori non si parla mai di come far male alla squadra avversaria in questo caso una fattispecie di Frosinone cioè non c'è mai un tentativo di costruire qualcosa cioè di portare positività di rassicurare i tifosi di far capire che l'allenatore ha la situazione sotto controllo non lo vedi mai anzi c'è il contrario cioè quella di non puntare in alto puntare a guardarsi alle spalle continuamente in base a dove sono le altre squadre che ci rincorrono e questo non va bene perché dallo slogan vince l'unica cosa che conta alla Boniberti si è passata partecipare l'unica cosa che conta ve l'avete fatto ricordare voi anche nei commenti bravissimi nella chat che avete in qualche modo intercettato a livello psicologico quello che è il mantra di Elkan e di questa nuova Juventus provinciale non la Juventus FC che conoscevamo ma la nuova Juventus che sembra un po' il formato della Tanta e del Sassuolo una squadra che punta ad arrivare ai piazzamenti europei vedendo se vince qualcosa di rifa o di raffa e poi tentare di recuperare i soldi di utile vendendo i giovani più promettenti questa è una cosa che spero non accadrà dal prossimo anno perché la Juve come ho detto deve strutturarsi per ritornare ad essere una grande non voglio sentire ragioni e soprattutto deve fare in modo di avere una struttura degna della Juventus e della gloria della storia nostra di 120 anni e soprattutto puntare ad avere un grande allenatore un grande roster per il mondiale per il club e per la Superlega perché come ho detto anche se tu provi a rimanere una provinciale non riusciresti mai a competere in queste competizioni che arriveranno è vero che arriveranno dei quattrini perché 50 milioni per il mondiale per il club e 350 vada 400 milioni per la Superlega però non possiamo adagiarci sugli allori perché come ho detto tenendo questo allenatore ed ecco perché è importante liberarsene presto alla fine di questo giugno non riusciremo mai a fare questo snodo questo giro di chiave mentale per tornare ad essere gente che ragiona in grande gente che abbia un respiro europeo che guardia al di là del proprio orticello e queste sono parole che diciamo da tantissimo tempo ma ripetendole come un ripetitore meccanico ogni giorno magari qualcosina qualcosa di sale in zucca ribanca a chi di dovere e prenderà i giusti provvedimenti ecco perché è fondamentale che oltre all'allenatore si cambi la dirigenza vogliamo gente competente di pallone l'ultimo che capiva qualcosa di calcio era Medved che poi è stato mandato via ma dobbiamo sulla falsa riga trovare dei profili simili a lui che amano la Juventus e che capiscano di pallone ai facendo di solitare da Giuntoli che è già comunque responsabile dell'area tecnica ditemi la vostra un bel pollicione iscrivetevi al canale e attirate la campanella a presto come sempre grazie di esserci un abbraccio forte da me e da Mila come sempre ricordo prima di concludere iscrivetevi in privato anche su Stivello Magno Facebook a Suse di Amico Amico vi farò avere anche lì tramite YouTube tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi appunto nel portale a presto un abbraccio a tutti quanti forza io fino alla fine